Io vivo per loro, sono disposto a mettere da parte tutto per loro. Siamo un gruppo veramente importantissimo e ripeto, sono veramente la mia seconda famiglia. Quindi si creano dei legami strettissimi. Sinistro, prima Chiesa, poi Vlaovic. Il doppio passo è via, un fulgine Chiesa, poi il tacco per Carliaso. Lungo su Rabiot, il buco di Silvestri, la testata di Rabiot. 0-3 Juve, super a sele. Il cross per Vlaovic, che gira di testa e si riprende il gol del pareggio. Ancora Danilo, per l'1-0 Juve, la sblocca lui. Il campo aperto, palla verso Chiesa. Chiesa, Chiesa va via, resiste, scivola, si rialza. Chiesa, Chiesa! Per il 2-0 Juve. Locatelli, con il cross verso Vlaovic. Fabio, per il 4-0 Juve. Fabio, per il 4-0 Juve. Chiesa con sinistro. Prima Vlaovic, poi Chiesa. La coppia d'attacco della Juve. Adesso Vlaovic, aspettare il pallone Vlaovic, lo mette giù. Si libera sul destro Vlaovic. Corasso totale. Apre lo spazio per Rek, Chiesa, che prova ad andare sul secondo palo. Cerca di Eling, Fagioli, rappoggia. Chiesa! Aprezzo McKennie, che riceve altro cross in mezzo. Tonto di testa, deviazione di Eling. Per l'1-0 Juve. Temuri al col destro, traversa, poi Shelly. La mano pescata di Kelly, salvataggio, Gatti. Danilo, la palla che gira verso Eling. Talissimo con deviazione. Manuel Locatelli. Disegna lui la traversone. Stacca a Mieke. Palla, palla che lanza un po' in. L'Orentes, decisiva ed è cambiato. Passa comunque per Kostic. Pallone basso. Miretti, il primo gol in Serie A Team. Palla verso Bremer. Gleison Bremer. La Juve avanti. Centro e finisce in porta. Ha segnato Daniele Rugani. Guarda andare bene in fondo. La forza per Flori. L'Ura 0 Juve. La testa in mezzo, la lato in compagno. L'Ura 0 Juve. Nicolussi di Gregorio non può uscire. Arriva il colpo di testa di Rabiot. Il primo che cerchia di andare dentro. Gleison Bremer di fondo, Gatti. Non è arrivato dentro, poi sì. Gatti riporta avanti la Juve. Al novantaquattresimo. Fa esultare sotto il settore ospiti. Sacroppa col bacino. Palla morbide. Mezzo Gatti. Per l'Ura 0 Juve. Chiesa. Juventus in vantaggio. Bendezza. 5-3. Rompe tutto. Riddix. Si è smaterializzato in mezzo a tre. E ha puntato giù la porta. Riddix. Riddix. Il terreno con tratto spazio. Disegna in area di rigore. Sul colpo di testa. Dell'uomo più atteso. Rimette avanti la Juventus. Si perde per un attimo il passo. La fine è Rabiot. Rabiot. Casione Rabiot. Per l'1-0 Juve. Prova il panore. Prova l'aprile. Ancora Weah. Tocco dentro. Blauic. E poi Iniz Junior. Per il pareggio della Juve. La sua effetta va a cercare Blauic. Per il 2-1 Juve. Al novantesimo. E 10 secondi. Il colpo di testa che cambia la storia del match. Il colpo di testa che cambia la storia del match.